Ben trovati amici del Centro Meteo Italiano. Domenica 22 luglio non si potrà tirare il fiato al Tour de France con una nuova frazione mossa di 181 km che porterà il gruppo da Millot fino a Carcassonne. Saranno tre i GPM di giornata con l'ultimo il Peak de Nord di prima categoria affrontato per la prima volta nella Corsa Gialla. Per quello che riguarda il meteo non sono attesi fenomeni di rilievo lungo il percorso con cieli generalmente poco nuvolosi, ma secondo le ultime uscite dei modelli non si escludono isolate acquazzoni soprattutto in partenza. Per tutti gli aggiornamenti live seguite il nostro sito e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano!